Oggi parliamo di uno strumento che non molti conoscono e usano. Si tratta dello strumento spugna. Come potete vedere siamo nell'ambito degli strumenti di disegno, infatti si comporta esattamente come un pennello che abbiamo già visto. A differenza dei pennelli normali però, lo strumento spugna lavora sulla saturazione. Qui possiamo decidere se togliere saturazione oppure aumentarla. Abbiamo un flusso e un bottone vividezza che ci permette di agire anche sulla vividezza dell'immagine. Vediamo cosa succede nel momento in cui andiamo a pitturare sulla nostra immagine. Come potete vedere dopo pochi clic i colori del punto in cui abbiamo pitturato sono completamente scomparsi. Se viceversa andiamo a saturare, dopo pochi clic i colori del punto in cui abbiamo pitturato saranno molto più carichi e più saturi. Adesso non fate caso a quello che ho fatto io perché è terrificante, è puramente a scopi dimostrativi. È uno strumento che non si usa tanto, però sapere che è lì può sempre fare comodo.